Negli ultimi 15 anni il nostro lavoro nel mondo del tappeto erboso ornamentale e sportivo ci ha portato a visitare tante realtà di manutenitori di campi da calcio e da rugby, ma anche società sportive. Tra le varie problematiche, oltre a quelle dirette della cura e della manutenzione di campi da gioco, apparentemente secondaria, ma di grande importanza, della tracciatura delle linee di gioco. Senza righe non si può giocare. Ci siamo allora impegnati, in ogni occasione, a raccogliere quante più informazioni possibili direttamente da chi in prima persona effettua la tracciatura del campo da gioco, oltre a visionare quali erano le macchine e le vernici che venivano utilizzate, i loro pregi e i loro difetti, il grado di efficienza e i costi che avevano. Abbiamo poi parlato con alcuni grumsmen di società professionistiche per avere anche le indicazioni dei problemi a livelli più alti. È stato il quadro di informazione generale che è venuto fuori che ci ha convinti infine a scegliere BoCon. BoCon ha un approccio innovativo alla questione che parte dalla vernice, essendo uno dei maggiori produttori e non dalla macchina che distribuisce la vernice. È un approccio totalmente differente e se ci pensate è unico, direi. Tramite i suoi tecnici cerca di produrre la migliore vernice possibile che risponda alle esigenze di luminosità, di resistenza alla pioggia, di rapidità di asciugatura, di persistenza nel tempo, di bassi consumi e di attossicità verso i giocatori e il manto erboso. E costruisce attorno a tutto ciò i traccialine, su misura, studiandolo e progettandolo appositamente per la sua funzione e non adattando una macchina già esistente a fare questo tipo di lavoro. Nasce quindi in questo momento BoCon Maton, il sistema integrato, e parlo di sistema, non di due cose separate, ma dell'unione di macchina e vernice, in grado di rispondere con efficienza, velocità e costi contenuti alle esigenze di chi traccia linee di gioco in aree sportive, sia a livello direttantistico che professionale. È in grado di lavorare a bassissimi consumi, fino a 1,1 litri per campo da calcio, eliminando totalmente i tempi di preparazione della vernice, non essendoci più la necessità né di diluire né di miscelare il prodotto. Limita l'utilizzo della macchina al tempo effettivo di percorrenza delle misure del campo da gioco, che nel caso del campo da calcio è all'incirca di 20 minuti. Per tutti questi motivi abbiamo scelto BoCon. Per questo abbiamo deciso di creare con loro un legame forte ed esclusivo, con questa azienda che ormai da 30 anni fornisce con successo vernici e sistemi traccialine, in UK e a livello internazionale, che ora è disponibile anche finalmente sul mercato italiano.